La Gran Bretagna già oggi registra 15.000 casi positivi. Sembrava il paese più avanzato d'Europa. Hanno fatto una scelta diversa da altri paesi d'Europa. Anziché concentrarci sulle seconde dosi, pensiamo a fare la prima somministrazione a quanti più cittadini. Bene, hanno scoperto che una sola dose non protegge dalla variante Delta. E chi ha fatto una sola dose si ammala di Covid. Poi, per amor di Dio, avremo magari meno gravità nelle patologie, avremo meno ricoveri, meno terapie intensive. Ma questo nessuno può dirlo. Perché per quei milioni di cittadini che hanno deciso di non fare il vaccino, la variante Delta sarà aggressiva al massimo. Questi sono i dati della realtà.